Carissimi fratelli e sorelle, bentornati sul canale cristiano e viva Gesù. Oggi, giovedì 31 marzo, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 5, 31-47. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Ma c'è un altro che mi rende testimonianza e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza ad un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il padre mi ha mandato. E anche il padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. E non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco. E so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al padre, C'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Buon ascolto del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco, intitolato Pensi che il cristianesimo sia la somma di regole e riti? Sbagli! Si può conoscere tutto il catechismo, tutta la Bibbia a memoria, tutta la teologia, tutti i riti, ma rimanere distanti da Dio, se si pensa che il cristianesimo sia la somma di tutte queste cose. Per noi il cristianesimo è Gesù Cristo e la dottrina, la parola, la teologia, la liturgia sono solo modi altri di scoprire, amare e aggrapparci a Lui. Un cristianesimo senza la persona di Gesù è fumo senza arrosto. Come potrete credere alle mie parole? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre, c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Avere tutto davanti ai nostri occhi e non accorgerci dell'essenziale. Tornare alla persona di Cristo. Tutto il resto sono chiacchiere o perdite di tempo, imbellettati di religiosità e pseudoteologie. Come comunità stiamo mettendo Gesù al centro. La conversione a cui ci invita il Vangelo di oggi non coinvolge solo personalmente, ma ci interroga anche come comunità, come Chiesa. Stiamo costruendo attorno alla sua persona o attorno delle strategie pastorali, a iniziative, a concetti, a tentativi anche lodevoli in ambito caritativo. Ma che non sono un modo più forte e decisivo di aggrapparci a Lui. C'è ancora Gesù lì dove tutto parla di cristianesimo? C'è ancora Lui o solo l'ombra delle sue idee? Ognuno con lealtà deve provare a rispondere, senza paura e con molta umiltà. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Contribuisci anche tu a diffondere la parola di Dio. Iscriviti al canale, attiva la campanella e inizia a condividere la parola di Dio con tutti i tuoi amici. Grazie di esistere. Grazie. Grazie.